Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Camera, signori Ministri e rappresentanti del Governo, signori membri della Commissione parlamentare di vigilanza, signori azionisti, autorità tutte, cari colleghi e cari colleghi, graditi ospiti, vi do il benvenuto alla cerimonia di inaugurazione del 170esimo anno dalla Costituzione di Cassa Depositi e Prestiti. Rivolgo un saluto e un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica che ci onora della sua presenza in questa ricorrenza così importante per noi. In questi 170 anni Cassa Depositi e Prestiti ha sostenuto la crescita dell'Italia, accompagnandola in un percorso di profondi e continui mutamenti economici, sociali e politici. L'ha fatto in virtù della sua natura di investitore di lungo periodo che le ha permesso di mettere a servizio del Paese, capitale paziente e produttivo e le migliori competenze, che ne hanno fatto anche un luogo dell'intelligenza pubblica. Cassa Depositi e Prestiti nacque a Torino il 18 novembre del 1850, sulle fondamenta della Cassa del Regno di Sardegna, istituita dieci anni prima e già utilizzata da Cavour, che ne intuì le potenzialità. Nel 1875 le venne affidato il compito di raccogliere i risparmi dei cittadini italiani attraverso gli uffici postali, che divennero la rete di comunicazione più diffusa nel Paese grazie al telegrafo, antisignano di internet. Il risparmio postale dei libretti e dal 1925 dei buoni rappresentò uno straordinario strumento di inclusione finanziaria dei cittadini italiani e un ponte prospettico verso il futuro per finanziare le infrastrutture fondamentali per connettere il Paese. Con il contributo di CDP furono costruite le reti di trasporto energetiche e di telecomunicazioni, ma anche i principali luoghi del vivere sociale, come le scuole, gli ospedali e tutte le altre opere volte a migliorare la qualità dei servizi e la vita dei cittadini. Il ruolo di Cassa fu fondamentale a garantire la stabilità finanziaria del settore pubblico nel difficile periodo tra le due guerre mondiali e negli anni del miracolo economico. In quel periodo CDP contribuì anche alla ricostruzione dopo le grandi emergenze, tra cui il disastro del Vajonte e l'alluvione di Firenze. Un'evoluzione continua, quella di CDP, che ha subito un'accelerazione negli ultimi 15 anni, caratterizzata dall'emergere di fenomeni strutturali come la globalizzazione e un sempre maggior ruolo della finanza nell'economia, la crisi delle finanze pubbliche e il consolidamento fiscale in Europa. Accanto a fenomeni congiunturali e straordinari, primo fra tutti la crisi del 2008, che di quei cambiamenti strutturali è stata una conseguenza, ma insieme un potente acceleratore. La trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni nel 2003, con l'ingresso nell'azionariato delle fondazioni di origine bancaria, a fianco del Ministero delle Economie e delle Finanze, è avvenuto in questo particolare contesto. Saluto a questo proposito il professor Giulio Tremonti e l'avvocato Giuseppe Guzzetti, che sono stati i protagonisti di questo passaggio fondamentale nella storia di Cassa. A partire da quel momento CDP, pur continuando a finanziare gli investimenti degli enti locali nelle opere pubbliche, ha esteso l'attività anche al finanziamento diretto delle infrastrutture, sia di nuova realizzazione, sia già esistenti, ed a operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, come nel luogo in cui ci troviamo oggi, e nel settore del social housing, in stretta collaborazione con le fondazioni. Questa dimostrazione di saper fare in contesti e attività nuovi ha portato CDP a sostenere anche l'accesso al credito delle imprese, soprattutto piccole e medie. Parallelamente è intervenuta per rafforzare la base del capitale delle start-up, delle piccole e medie imprese e delle imprese strategiche per il Paese, divenendo un importante investitore nel mercato dell'equity, sia pubblico che privato, il primo nel venture capital a livello nazionale. Un percorso di evoluzione che grazie a Sace e Simest ha anche portato alla creazione del polo unico dell'export di fondamentale importanza per la crescita di un Paese come il nostro. Nel frattempo è andato emergendo in misura sempre più rilevante all'interno e al di fuori dell'Europa il ruolo delle banche di sviluppo, soggetti a proprietà prevalentemente pubblica ma finanziate da capitale di debito privato, con la missione di sostenere lo sviluppo delle economie nazionali e promuovere la collaborazione tra Paesi. Insieme a loro e in particolare alla BEI, alla Caisse de Po, alla KFW, CDP ha portato avanti numerose iniziative con un rapporto di stretta collaborazione. La proiezione internazionale ed europea di CDP si è ulteriormente rafforzata con il riconoscimento della qualifica di istituzione finanziaria italiana per la cooperazione allo sviluppo e di istituto nazionale di promozione. CDP è stata la capofila nell'implementazione in Italia del piano di investimenti per l'Europa, il piano Juncker. Siamo oggi pronti a svolgere un ruolo da protagonista nel nuovo programma InvestEU della Commissione europea e nella cooperazione internazionale. Signor Presidente, in questo momento storico la focalizzazione sul lungo periodo è fondamentale per garantire al Paese quegli investimenti che per definizione richiedono capitali pazienti e che sono determinanti per la crescita del Paese. Mi riferisco agli investimenti nelle infrastrutture e nell'economia reale. Cassa Depositi e Prestiti oggi, ancor più che in passato, è protagonista nel sostegno di questi investimenti per la sua capacità di trasformare il risparmio in finanziamenti a lungo termine che ne fa primario investitore di lungo periodo nel panorama italiano anche in funzione anticiclica. Allo stesso tempo la natura di Cassa Depositi e Prestiti che similmente alle sue consorelle europee è espressione dell'unione tra pubblico e privato. Ne fa un'istituzione assolutamente unica. Non esistono altri soggetti in cui la proprietà sia a prevalenza pubblica le risorse raccolte e impiegate totalmente private. CDP pertanto da un lato si trova ad essere espressione della presenza dello Stato nell'economia e dall'altro opera con regole di comportamento tipiche dell'investitore privato. L'obiettivo non è la massimizzazione dei rendimenti, bensì la sostenibilità a tutela dei risparmi di 27 milioni di italiani. Una tutela, quella del risparmio, che è garantita dalla nostra Costituzione e che sentiamo fermamente come nostro dovere. Volgo dunque alle conclusioni facendo un doveroso riferimento ai nostri azionisti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze identifica il disegno strategico delle attività del gruppo in complementarietà con le scelte di politica economica. Le fondazioni di origine bancaria rappresentano un nucleo stabile di azionisti pazienti orientati a lungo periodo e di conseguenza attenti alla sostenibilità degli investimenti nel tempo, soprattutto in termini di benefici per i territori e le comunità, con un ruolo né passivo né secondario. Ai nostri azionisti va il ringraziamento di Cassa Depositi e Prestiti e del suo management. Concludo con un ringraziamento a tutti voi, ospiti e in particolar modo al Signor Presidente della Repubblica e passo quindi la parola all'amministratore delegato Fabrizio Palermo. Grazie a tutti!